L'investimento sulla relazione con il cliente sulla customer experience è uno degli obiettivi fondamentali della strategia di Vodafone che intende dare al cliente la migliore esperienza sulla miglior rete. Per fare questo stiamo disegnando esperienze sempre più omnicanale, sempre più personalizzate, sempre più contestualizzate sul micro bisogno e sul micro momento che il cliente sta vivendo e tutte queste esperienze oggi partono dal digitale che è una straordinaria opportunità per creare una conversazione completamente diversa col cliente, più sistematica, più continuativa e appunto più personalizzata.